Eccoci, siamo ritornati. È tornato Andrea, è tornata Lara con il suo sorriso. Ciao a tutti. Sempre qua in Gruppo Ghinzani, sempre qua a Bergamo, in Cittadella dell'Auto, in via Zanica 58 a due passi dal casello all'autostrada. Siamo ritornati con tantissime occasioni e un nuovo brand, il brand Spoticar. Parliamo di vetture certificate, parliamo di vetture aziendali, parliamo di vetture con addirittura fino a 5 anni di garanzia. Le occasioni sono tantissime e insieme ai nostri telespettatori che ci stanno ascoltando con attenzione, io direi magari Lara di far vedere qualche opportunità del nostro salone, assolutamente da non perdere. Poi vi aspettiamo chiaramente qui per visionarle, provarle su strada insieme e valutare anche tutte le nostre offerte finanziarie, anche lì veramente esclusive da non perdere. Partiamo da questa splendida Citroen C3 1002 Shine, l'allestimento più particolare, l'allestimento più elegante, l'allestimento più completo della Citroen C3. Motore 1.282 CV, è una vettura che ha solamente 56.000 km immatricolata nel 2020, km chiaramente certificati, vettura tagliandata, con 12 mesi di garanzia Spoticar Premium. È una vettura con tetto panoramico, sensori, cerchi in lega, clima automatico, bluetooth e veramente tanti altri particolari. Prezzo esclusivo 16.900 euro se acquistate la vettura e finanziate con noi una parte del prezzo. Passiamo in Renault e partiamo subito con questa magnifica Renault Clio. L'abbiamo in tantissime colorazioni, sono tutte vetture, motorizzazioni 1.090 CV, tutti veicoli aziendali con davvero pochissimi chilometri. Pensate che la vettura più chilometrata ha solamente 8.000 km. Parliamo di vetture quindi non usate, ma io le chiamerei Lara diversamente nuove. Hanno anche queste vetture un finanziamento molto particolare, la possibilità di accedere a un finanziamento molto particolare, erate a partire da solamente 280 euro al mese. Avete capito bene? Con solamente 280 euro al mese e valore garantito finale dopo 48 mesi, potete guidare questa magnifica Renault Clio Intense Full Optional. Passiamo ad ora a questa bellissima Jeep Renegade Km Zero, ne abbiamo ancora due disponibili, le ultime due in pronta consegna, vetture immatricolate nel 2021, novembre 2021, allestimento limited, motorizzazione 1.000 da 120 CV. Allestimento limited che ha all'interno, troviamo all'interno, navigatore, bluetooth, cerchi in lega, fin di nebbia, clima automatico, sensori anteriori e posteriori. Non manca assolutamente niente in questa splendida Jeep Renegade. Ultime due vetture, entrambe in questo colore metallizzato argento. Anche qui abbiamo un'operazione finanziaria unica con valore garantito finale, quindi anche qua una rata, un canone mensile, che si aggira a circa 300 euro al mese. Citroen C4 Shine, cambio automatico, chilometro zero. Ultima vettura disponibile in pronta consegna, allestimento Shine, veramente completissimo, dal faro LED ai sistemi di sicurezza con l'anticollisione, antisuperamento carreggiata, cerchi in lega, clima automatico, interno misto pelle, telecamere, vetri privacy posteriori, bluetooth. Mi sembra aver elencato gli accessori più importanti, ma veramente è un'auto completissima di ogni particolare. Motore, benzina, 130 cavalli automatico, prezzo esclusivo, qua da noi, la trovate solamente qua da noi in pronta consegna, 28.900 euro, finanziabile anche qui con valore garantito finale, e il canone intorno alle 290 euro al mese. Continuiamo il percorso di crossover in casa Opel. Ultima, ah no, qua di queste vetture ne abbiamo ancora due disponibili, non una. Abbiamo due splendide Opel Mokka, 1.5 diesel, 110 cavalli ufficiali italiane, allestimento Elegance, cambio, entrambe cambio manuale, Euro 6 chiaramente, parliamo dell'ultimo allestimento, ultima versione della Opel Mokka, con fare a LED, sistemi di anticollisione, cerchi in lega, telecamere, navigatore, monitor touch, connessioni dati con i vostri sistemi operativi, telecamere. È un'auto disponibile qua da noi in pronta consegna, penso che siamo forse l'ara agli unici ad averla qua disponibile in pronta consegna, prezzo esclusivo 25.900 euro, anche lei finanziabile, sempre con la nostra proposta valore garantito, con canoni, 48 canoni da 290 euro al mese. Citroen C3 Aircross, 1.5 diesel, 110 cavalli, Euro 6 chiaramente, parliamo anche qui di un veicolo chilometro a zero, immatricolato nel 2022, disponibile in pronta consegna, allestimento C-Series, quindi parliamo di una vettura anche qui, sempre molto allestita, molto accessoriata, con questi dettagli rossi molto particolari negli specchietti e nella parte frontale del muso del veicolo. Cerchi in lega, clima automatico, bluetooth, connessioni dati, sistemi operativi, chiaramente Android e Apple CarPlay, sensori di parcheggio, cruise control, vettura magnifica, parliamo di un prezzo, anche qui, secondo me unico, di 24.500 euro, chiaramente tutte queste vetture che stiamo vedendo velocemente e analizzando velocemente con un dettaglio molto generico dei particolari e degli accessori, li potete ritrovare sul nostro sito internet www.gruppoghinzani.it nell'ala Spoticar, più di 450 veicoli disponibili in pronta consegna o presto in arrivo presso la nostra sede qui a Bergamo. Non poteva mancare qua da noi in Cittadella dell'Auto, gruppo Ghinzani Spoticar, Bergamo? I veicoli in multispazio. E partiamo subito con questo magnifico Ford Orneo, chilometro zero, disponibile in pronta consegna. Abbiamo ancora sei veicoli disponibili in pronta consegna, sia nella motorizzazione benzina che diesel, tutti i cambio manuale, sia cinque posti che sette posti. Avete capito bene? Le abbiamo disponibili anche sette posti. Motori, benzina e diesel, io qui vi invito a visionarli in dettaglio sul nostro sito, li stiamo pubblicando proprio in questi giorni. Troverete tutto il dettaglio, sia del prezzo che delle caratteristiche tecniche e degli accessori dei veicoli. Continuiamo con questi veicoli in multispazio, passiamo in casa Opel, con questo magnifico Opel Combo Life. Anche di questo veicolo abbiamo una gamma ampia di disponibilità. Sono tutte vetture aziendali, sono tutte vetture che hanno percorso circa 30.000 chilometri. Motorizzazione 1.2, benzina, 130 cavalli, cambio automatico, cinque posti. Anche queste vetture, visionabili sempre sul nostro sito, sulle nostre app, sui nostri social, non dimentichiamoli assolutamente, su Facebook o su Instagram siamo presenti con tantissime offerte e novità. Questi veicoli sono disponibili, ripeto, in pronta consegna, tempo di matricolarla, finanziabili anche qui con valore garantito finale e rata canone che può partire da 250 euro al mese. Occasione Lara, questa è un'occasione vera e propria. Renault Scenic, monovolume del 2018, solamente 70.000 chilometri, sempre con garanzia 12 mesi spotty car. Parliamo di un'auto, anche lei, completissima in tutti gli accessori, con cambio automatico, unico proprietario, è un veicolo veramente da venire a visionare e non perdere, in pronta consegna qua da noi in spotty car. Interamente finanziabile, rata a partire da 190 euro al mese con delle mini rate mensili, chiamateci e pernotate subito la vostra prova su strada dedicata con uno dei nostri commerciali a disposizione. Vi aspettiamo! Citroen C5 Aircross, 1.5 diesel, 130 cavalli del 2021, cambio manuale, vettura unico proprietario, prezzo 27.500 euro. Torniamo a parlare di Citroen C3 perché sono appena arrivate queste magnifiche Citroen C3 1.2 Shine del 2022. Sono vetture diversamente nuove, veramente con pochissimi chilometri. Sono tutte in allestimento Shine, questa è la più esclusiva di tutte, con allestimento Shine Pack e una rifinitura interna che poi andremo a vedere nel dettaglio, veramente unica, con dei sedili veramente particolari. Vettura 1.282 cavalli del 2022, lo ripeto, sono vetture veramente nuove. Qui da noi le trovate disponibili in pronta consegna a un prezzo a partire da 17.900 euro, interamente finanziabili, con possibilità anche di rottamazione del vostro vecchio usato. Interamente, ripeto, finanziabili con minirate a partire da 190 euro al mese. Non potevano mancare anche qui da noi spotticare le occasioni sui veicoli ibridi e elettrici e benzina gamma 508 e gamma 3008 in vari allestimenti e vari colori. Tutte motorizzazioni benzina 1.6 unite al motore elettrico che generano 225 cavalli con 50 chilometri di autonomia in elettrico, ricaricabili con la presa oppure con l'autorigenerazione della vettura. Le auto sono tutte vetture del 2021, sono tutte vetture aziendali del gruppo Peugeot, sono tutte vetture garantite con 24 mesi di garanzia premium, interamente finanziabili, con possibilità di permuta del vostro usato o di rottamazione del veicolo Euro 4 e Euro 5. Venite a trovarci per fissare da noi, anzi visionare qui da noi in salone nel dettaglio le auto, provarle su strada perché queste vetture bisogna testarle, bisogna provarle su strada per capire il piacere di guida dell'elettrico e la bellezza di avere in mano un 3.800 o un 508 marchio premium, linea premium del marchio Peugeot. Ne approfittiamo e ci soffermiamo un attimo Lara con l'auto dei tuoi sogni, so che ti dispiacerà abbandonarla qua da noi perché sicuramente adesso arriveranno un sacco di chiamate per questa vettura e questa è una magnifica Mini 60 Years, edizione limitata, con interno esclusivo in pelle che potete visionare, è un'auto che abbiamo solo noi qua del gruppo Ghinsani disponibile in pronta consegna, del 2020 con 20.000 km. Il prezzo non ve lo dico, andate sul nostro sito e curiosate un attimino perché è un'occasione da non perdere, assolutamente. So che Lara rimpiangerà a questo momento perché è l'auto dei suoi sogni, però noi siamo qua per vendere e dobbiamo rispettare i nostri ruoli e proporre ai nostri telespettatori. Direi che con questa vettura concludiamo questo breve percorso, ma ricco di tante novità e vi aspettiamo qua da noi in salone, chiamateci e venite a trovarci qui a Bergamo in via Zanica. Un saluto da Andrea. Ciao, a presto, vi aspettiamo. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, a presto.